Sì, è vero. Ma domenica è sciuto. Per ne coprire il cliente? No, è sciuto. Ma vedi te la mia moglie. Ma non la giù, va da te. Ma ti va a fare in giù? E ora non mi puoi sentire. Ma non mi puoi sentire. I nascita! Ma tutti ci e i eoi. Non ti va a fare in giù. Non ti fai così, non ti è difficile? Non tu hai fatto il cliente? No, non ti va a fare in giù! Grazie a tutti.